Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 tra Calenzano e il A1 variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e il Bibio con l'A1, tutto verso Firenze. In Fibri troviamo rallentamenti per lavori in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato. Per traffico, possibili disagi verso Firenze tra La Strassigna e Firenze Scandici. Per il traffico urbano di Firenze relativamente ai lavori di asfaltatura in Viale e Truria, questa settimana i lavori interessano le corsie di sorpasso e in direzione uscita a città con restringimenti di carreggiata. Previsti inoltre provvedimenti di mobilità in orario notturno da domani sera. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buon aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!